Ciao a tutti e benvenuti! Oggi impareremo come presentarci in italiano. Che siate in Italia in vacanza o lavoro, studio, saperlo fare è veramente fondamentale. Quindi iniziamo! Portiamo dal principio. Per dire il vostro nome la frase è mi chiamo e il vostro nome. Ad esempio io mi chiamo Chiara. È molto semplice, provate! Dopo aver detto il vostro nome potete parlare delle vostre origini. Vi faccio un esempio. Sono dividere la vostra città natale o ad esempio il paese di provenienza. Io sono nata a Roma. E questo vi collega subito alla vostra storia personale. Provate! Il lavoro e gli studi sono molto spesso un argomento di conversazione. Sono un o una. Oppure studio fornisce informazioni sul vostro percorso professionale oppure su quello che state studiando. Ad esempio, io sono un insegnante. Oppure io studio le lingue. Condividere ciò che amate rende sicuramente la conversazione più personale e molto più interessante. Potete dire, ad esempio, mi piace l'attività oppure amo il lobby, per mostrare i vostri interessi. Mi piace suonare la chitarra oppure amo viaggiare. Questi possono essere ottimi spunti per scoprire interessi in comune. Se siete appassionati della cultura italiana, ricordatevi di condividere il motivo del vostro interesse. Potete dire, ad esempio, sto imparando l'italiano perché... e raccontare la vostra esperienza personale. Tipo, sto imparando l'italiano perché ho una passione per la cucina o perché mi piace la storia dell'arte italiana. Ricordatevi, l'obiettivo di una conversazione è farvi conoscere ma anche invitare gli altri a interagire con voi. Potete dire, ad esempio, mi piacerebbe sapere di più su di te oppure raccontami qualcosa di interessante sull'Italia. Questi sono tutti i modi per incoraggiare una conversazione amichevole e scoprire di più sugli altri. Adesso, tocca a voi! Provate a presentarvi nei commenti qui sotto. Sono curiosissima di sapere chi siete e perché state imparando l'italiano. Non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!